40-15, 40-55 Fuego, Olivo 15-0, 15-0 Grande risposta di Olivo con il rovescio A 30 a Verdasco, 1 pari Il dritto vincente a tutto braccio E' isso E' isso, divertasco Lungo e recupero di Olivo Baglia completamente il dritto Verdasco E' arriva il break Servizio dritto Profondo con il 30-0 Non sbagliar a voler Fuego Verdasco 1-0, 1-0 Arriva un mini break Ci arriva Verdasco ma para Olivo Altra palla corta perfetta di Olivo Burlato il primo Stecca con il dritto Verdasco Bello il dritto in contropiere di Verdasco La risposta di Verdasco A zero il break di Olivo A zero il break di Olivo Se ne va e recupero di Olivo Se ne va e recupero di Olivo A 15 La risposta di Verdasco Servizio dritto 30 pari da 0-30 Grande difesa di Olivo Chiude il set Verdasco Con la prima Aggressivo con la risposta Molto profonda Leis ancora Il passante di Verdasco La quale è buona Sta giocando molto Gran scambio Giocato da entrambi Insistere la parte Nel rovescio di Olivo 46 E 40 Poi va Olivo Con lei Eccolo qui L'errore di Verdasco Assegno di Olivo Assegno Olivo Trassegno col dritto Buona risposta Buona risposta Ancora con leis Il quindicesimo di Olivo 1 ora e 57 minuti L'argentino Si qualifica per i quarti di finale di Chito Supera 7-6 3-6-6-3 E Fernando Verdasco Grazie a un parsare di 5-0 Nel terzo set Grazie a tutti Grazie a tutti